Voi ce l'ho sempre sentito Hello Closhard E benvenuti In questa nuova Trasmissione Oggi ragazzi E' una Attenzione Oggi è una puntata un po' particolare Perché oggi abbracceremo Un dissing bello fuocoso Bello un fuocato E siamo subito partiti così Allora io ciò che mi non cazzo Mi devi spiega bene come funziona oggi Come funziona oggi Io ho contantato entrambi per essere presenti Al Cerbero Podcast Ma io pensavo fosse presente però qua Sta a Milano lui Questo qua non lo sappiamo Qua sta chiedendo Quando è che scenderai a Roma Così facciamo la trasmissione Una gregliata Ok Presentiamo un attimo i nostri ospiti Allora abbiamo qui presente fisicamente Elia Baby Elia 17 17 scusami Fondamentale 17 però devi parlare al microfono Ma perché intanto non vieni qui Finché non arriva Dudu Eh perché poi salta l'inquadratura Mo l'ha messo vicino Ok E poi abbiamo in collegamento Il possente Ercole Sei mutato mi sa Ciao Ah ok ciao Bella Ti vedo un po' spento Ercole No perché io Io vi sento in ritardo Perché se non Porca puttana Sento la mia voce due volte Ah vabbè Più di Twitch Devo mutarmi Sì o di YouTube per sempre No 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 Allora non partiamo subito Devi dappare la live Top Joker Mi mette pure la videocamera virtuale Ok vabbè Ho mutato Aspetta Allora Partiamo un attimo Per gradi Perché pur io Ho mutato la live Ho mutato la live Così sto a posto Perché pur io Molte cose Le so perse No Dov'è che è partito Tutto quanto Dopo Dopo che Elia Ha fatto Quell'aggressione A social boom E tu ti sei inserito A pesce Diciamo No Capare che non è partito niente Ma al di là di questo Cioè soltanto quando Ha chiamato Gabri Che mi è stato sui coglioni Ma per me era finita lì Sì sì Però quando tocchi Di determinati argomenti Poi non finisce lì Cioè sai com'è Sì vabbè ok Io lo so L'ho detto già più di una volta Sia nella mia live Che anche quando sono andato Da Ivan Che so Di essere sceso quasi Al suo livello Ma Ivan Drago Ma Ivan Drago Chi ha visto Ivan Drago Non so Di quale Di Di chi stai parlando Ecco Sono andato anche in live Da Ivan Grieco Gliel'ho detto anche a lui Che so benissimo Di avere cagato fuori dal vaso Ma è una cosa Che avevo fatto apposta Cioè volevo soltanto Fargli girare il cazzo Quindi diciamo Che gli ha fatto il trappolone E lui E c'è cascato Steddy Io ho detto Io ho detto più di una volta Che mi è dispiaciuto Di aver detto quella cosa Cioè sicuramente Non ho Non ho niente di cui scusarmi Però dico che mi dispiace Di aver detto quella cosa Cioè nel senso Sono umano anch'io Vabbè diciamo Che di cappellate Tutte e due Io diciamo Che c'è una margine d'età Forse che mi permette Un attimo Ma quanti anni c'hai Perché quanti anni c'hai Quattro anni c'hai Allora facciamo una cosa Andiamo per ordine Non ci capisco un cazzo Dobbiamo partire Da social boom Forse pure prima Perché io non ho capito Cerchiamo di ricostruire Ricostruire il tutto Anche perché io devo Blastare questi due ragazzotti Però Intanto Ercole Ti piace il mio Il mio outfit Ti piace? Sì ci piacciono i colori Sì ci stanno Ah grazie Stiamo un tonati Che la parete Sì più che altro Con la live Diciamo che mi sono Adattato un po' All'ambiente circense Buono buono Molto buono Queste diciamo Che sono grandi Allora dicevo Io sono venuto a conoscenza Del qui presente Lì a Bevi In seguito a quello Che è successo Con social boom Ah intanto Io voglio chiedervi una cosa Anzi chiederti una cosa Ma È stato fatto apposta o no? Perché io mi sono Molto adirato Certo Aspetta così Mi sta poco attaccato Perché io Mi sentite bene? Comunque sì ragazzi Assolutamente Tutto fatto apposta Ci vogliamo bene Vabbè non mi piace per culo Allora No no Te lo giuro Questa è stata percepita Come una grande paraculata Perché l'aggressione Se vedeva Che c'era proprio Il veleno da parte tua Quando piavi a scuffiotti Poi che lui Abbia fatto un passo indietro Diciamo che Ha fatto sia una pessima scelta Perché passa il messaggio sbagliato Che passa che quello Che gli ha fatto te O lo hanno fatto tutti Secondo me Sì ma E poi E poi Altre problematiche pure Parla Che era tutto organizzato Io ce l'avevo sempre avuto Allora però In questo caso Sarebbero due attori da Hollywood Quindi io Le proporrei per il prossimo film Di Harmony Corrine Ma io m'ho presso Sarò anche su Netflix Ragazzi Ok Ilia 17 baby La serie Beh stavano messi bene Il Netflix Comunque No il fatto è questo A me non sembrava affatto Una recita E io ho condannato Molto fortemente l'episodio Perché secondo me È stata una cosa vomitevole Veramente Un atto di bullismo Poi le motivazioni Tu un po' le hai spiegate Però dici meglio Perché sei arrivato A fare quel gesto Sceno Ma Allora Mh Non saprei come Come te lo spiego Nel senso Parole due Noi è stata Ti ripeto È stata una cosa organizzata Quindi Tutto il bullismo Che dicono Che nominano È tutto quello Che stiamo facendo vedere Che gira intorno Ovvero Il cyberbullismo E l'attaccamento mio Di persone Tipo insignificanti Tipo questo Che sta là Tutte queste cose Per un briciolo di hype Si sono attaccati Solo a questo A nessuno Era Diciamo Gli era presa a cuore La situazione Anche perché Se parlava con uno O con l'altro Ovvero O con me O con l'altra persona Che è social Ci parlava Gli spiegavamo Tutto com'era E stop Finiva là Invece Secondo me L'hanno portata Molto avanti Per costruirci Le loro carriere Diciamo Tra virgolette Poi quello che hai fatto Pure te però Alla fine E pure Ercole in parte In che senso Vabbè Alla fine Diciamo che avete avuto Un grande hype Da questo Siete qui per questo motivo Io stavo a 90.000 follower Prima che succedesse Stessa cosa Per dirti Però diciamo che È l'evento Che ti ha dato Più visibilità Che sta a far lavorare A tutta Italia L'evento Però è vero Diciamo che Tutta la scena Che ve siete acchiappati Ve la siete acchiappati E sta facendo Se so acchiappati Perché io su Twitch Manco ci sto Calcolo Per dirti Per ora Ora te l'apri in canale No Ce l'ho Ho l'applicazione aperta Una volta Sono andato in live Ho fatto mille persone In dieci minuti Per dirti Ma non è una cosa Che mi appartiene Non è una cosa Ma quindi cioè Voi avete fatto anche Una sorta di Corso di recitazione Sì Cioè anche wrestling Perché comunque Le botte Ho fatto sia Accademia Cinematografica A Roma Che ho fatto anche Sport Quindi i colpi Non erano Veri Erano appoggiati Ragazzi Erano appoggiati Scenograficamente Certo Lo diciamo anche Perché sappiamo che Correggimi se sbaglio Ci sarà anche una sorta di Comunque processo Per questa cosa Vabbè questo l'ha detto social Sì A prescindere No Non perché sia È che è stato chiamato E lui è stato chiamato È stato chiamato L'hanno tenuto cinque minuti Abbiamo spiegato Quello che gli dovevamo spiegare Poi Se mi aggraveranno Le mie misure Per altre cose Eh ma pure sta cosa Non l'ho capita Ercole Stiamo tenendo un attimo lì Ma adesso Adesso ti faccio entrare Scusami No io sto ascoltando Perché sto cercando Un po' di ricostruire Perché se no Ascolta e impara Grazie Io mi sto bevendo il caffè Ok Quindi dicevo Va bene Ma l'idea A chi è venuta Di questa stronzata E soprattutto Non avete pensato Alle conseguenze Facciamo finta Che sia vero Sì a patto che sia vero Cosa che per me non è Però E l'abbiamo pensata Così È nata così Quella sera Cioè semplicemente Ma da te o lui Da tutte e due insieme Non è stata E com'è che è partita l'idea Ti è molto da un paio di pisse Ti butta un piscina vestito Nel senso Cioè Ma lui sta dicendo È vero che si sono messi d'accordo Secondo te è vero o no? Ma va Non è vero Non è vero Ma te social lo conosci Perdonami Ma te lo conosci o no Social boom? Non ho capito A me A me mi è chiesto Se conosco social Sì Sì lo conosci Penso che a me Lo conosci E quindi lo saprai Se è vero o meno Scusa Ma io non ho bisogno Di chiederlo a lui Per sapere Se sia vero o meno Cioè nel senso Non mi sono nemmeno interessato Ad andare a chiedergli Oh ma è vero Ma non è vero Cioè non me ne è mai fregato Un cazzo Onestamente Mi è dispiaciuto Mi è venuto un ribrezzo La prima volta Che ho visto quella clip Però non è che sono stato A interessarmi A dire oh minchia Ma l'avete fatto apposta Non l'avete fatto apposta Cioè nel senso C'è bisogno di chiederlo veramente Cioè voi avete veramente Avuto bisogno di chiedergli Se sono messi d'accordo o meno Non credo proprio Soprattutto Anche fosse così Sarebbe grave lo stesso Secondo me Sarebbe pure più grave Ma perché è tanto grave Perché è grave Perché è un modo Di enfatizzare Il bullismo E far la violenza Però la violenza è una cosa Il bullismo è un'altra Allora se tu prendi una persona Che comunque Mi hai visto Peso 60 kg Sono alto 1,76 m Non è che sono 1,90 Però in quella situazione Però quello che appare sui social È molto più potente È molto più significativo Della tua stazia fisica Io però non è che parlo a vanvera Cioè nel senso L'ho spiegato tanto Ma tu quell'atto Come me lo descrivi? Quello è un litigio Cioè un semplice litigio Un litigio Se fosse stato vero Un litigio Prendere una persona E dirgli sei il mio schiavo Se fosse stato vero Sarebbe stata una litigata No Non è una litigata È un bullizzare Una persona Davanti Sotto diciamo Un occhio Della videocamera Con frasi del tipo Tu sei il mio schiavo Fai quello che ti dico Io dammi un bacetto Buttate dentro Che cazzo vuol dire? Ma infatti per quello Io dico che non sembrava finto Ma io vedevo la faccia sua Lui stava tutto proprio Aveva proprio l'espressione Del cagato sotto Cioè aveva presente Proprio l'espressione Di quello che ti si sta cagando È quello che anche Che ha detto lui Nel senso Sono un bravo attore Che vedevo dire Sarà un bravo attore lui Sarà un bravo attore io Perché non mi avete chiesto Se ero d'accordo Con il ragazzino sul pullman? Ma ci arriviamo piano piano Alle due cazzatine Volevamo partire No no ci arriviamo Ma per me rimane una stronzata Ma anche fosse tutto recitato Per me è grave lo stesso Ti ripeto Perché ovviamente Passa il messaggio Non lo faremo più Sicuramente ci sarà servito Magari l'esperienza Eh meno male Sicuramente non faremo più Comunque poi Da quella vicenda Succede anche il fatto Col gabrone Ercole che è successo Col gabrone Ci vuoi spiegare un po'? No no chiedo a Ercole Perché hai parlato Sì ma non è successo in niente No parla pure lui Dai sennò Che ti devo dire Io sono andato a beccarlo Per bermi una roba A sparare due cazzate E l'ha chiamato Cosa Cosa vuoi che ti dica? La prima cosa che gli dici Mi costruisci un po' una cosa Spieghiamo magari A chi non ha visto tutto Ti devo tirar fuori Le parole di bocca Ercole dai Eh ho capito Ma scusami E' eloquenza cazzo Vuoi una ricostruzione Vuoi una ricostruzione Di una persona Di una persona terza Cioè io ero lì seduto al tavolo Tu hai raggiunto in un certo modo Dicci quello che è successo E minchia la prima cosa Che gli ha detto Appena ti becco Ti dà una sveglia Che te la ricordi tutta la vita E allora mi sono girati I coglioni cazzo Questa qua Aveva appena pigliato A sventolo ogni giorno Prima Quell'altro ragazzo E poi Mi fa pure sta minchiata Cioè finché si parla Di quell'altro ragazzo Che è comunque un conoscente È un conto Gabbio mio amico Mi sono girati i coglioni Infatti su quella cosa Non specifico Noi abbiamo detto Finché Penso che Penso che Se uno Se facesse una cosa del genere A uno di voi tre Non penso che gli altri due E stanno lì a grattarsi No no ma infatti In quel caso specifico No abbiamo detto Sì ma se io ce l'ho qua Comunque non è che Glielo dico Appena ti vedo Ti do la sveglia Cioè è diversa la cosa Capito Hai fatto un esempio Allora sei un clown In che senso Non ho capito ragione Io ho detto Che se c'è una persona davanti Le cose le faccio All'atto pratico Non è perché Glielo devo dire per te Eh sì Allora incrociavi i capri Gli devi due sventoloni Così a buffo Senza saperne leggere Ne scrivere Ma che cazzo di persona sei zio Cos'è o lo chiamavi Gli dicevi ci mettiamo d'accordo Ma perché tu cosa fai Scusa Vai in giro per Milano A menare i quindicenni Ha fallito Che cosa dici Come ti permetti A giudicarmi a me Che vai in giro A menare con l'asta del telefono I quindicenni Che cosa dici Mamma io ti giuro Non è vero Io ti pago Oddio l'abbiamo vista Il clip però Già te l'ho detto E te lo ridico Io ti pago il biglietto Per venire a Roma Se vuoi Però è pur sempre recitato Diciamo che gli veni Poi quando ci vediamo Recito tranquillo Ma allora ascolta Dopo che vado in live Fammi gli 150 euro Di donazione no Va bene Per venire a Roma Ti faccio il biglietto Ma male Grazie Va bene Che se vuoi chiamo ora Te li faccio fare ora Te li faccio fare ora Se vuoi Guarda aspetta Lui ha toccato un punto Sì ma io Io non voglio Io non voglio Guarda che ha toccato No 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 noi No noi ci dissociamo No ma non è questo Lui non è neanche La paracola del Twitch Veramente Ma dobbiamo risolvere Ancora le questioni così Ma che siamo No ma più che altro A me Allora Invenzione al tizio No che si evinceva pure Dall'umore E dalle dichiarazioni Hai ragione Ma voglio dire solo una cosa Su Ercole Finché Ercole Si è messo a difendere Il Gabbrone Non è che difende e basta È un altro violento Ma infatti Quello che ho detto io Ad Ercole Nel momento in cui Lui ha difeso il Gabbrone Dall'attacco comunque Di Elia Ci poteva stare Poi vabbè Ha cominciato ad insultargli La madre Pure la Ma attacco È stata una parola Fammi ricostruire Per come l'ho vista io Lì è stato di basso livello Però ok Poi Ercole Pure tu Comunque Diciamo che Non ti sei contraddistinto Per comportamenti decenti Cioè quella scenata sul bus Stai parlando Stai parlando Quella del Quella del bus Quella della rissa Pure che ti mette A fare efflessioni In mezzo alla strada Con le macchine Appena Un ragazzo Che passa Un ragazzo che passa E ti saluta E tu te stacca la testa Pezzo del merda E poi è arrivata la ragazza Soprattutto Anche le donne Io ti ho sentito Insultare anche donne Quindi tu che vuoi fare Il moralista De sto cazzo Con Elia di Genova A te ci sono i clip Che insulti le donne Che dici Sazietta Brutta puttana De merda Io ti dico Che a Roma A Roma non esistono Eh si ci sono le clip Su Youtube Tranquillo A Roma non esistono Queste cose Se tu gli fai A un'amica mia Tipo gli dici così Davanti a me Altro che Vito con l'asticella Colonna di San Lorenzo Fio mio Io sta cosa Non la so però Non l'ho vista Ma pure Su qua Scenallate Il Manfrotto Gli dice a una Tu stai sista A pochi secondi Prima Parlate regà È la stessa Pitta stronza Ah ok 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 Lui E' quello Lui intende Vabbè che donna Ce ne frega poco Il fatto che lui Comunque è un altro Che fa queste cose È vero Poi Ercole Che anche per te È show Non aveva detto Proprio queste parole Ma simili Comunque Beh il fatto che Vuoi venire la gente Che ti fa il grosso Per strada Questo qua è vero Cioè ti abbiamo visto Più volte Che vuoi capire Zitta fatti i cazzi Tu a levati dal cazzo Non è vero Ma l'hiamo visto In live l'altro giorno No era l'altro giorno Eh vabbè Dai magari Era una parola diversa Il concetto era quello No no E hai detto Zitta fatti Ti diceva Non mi fare Oh ti diceva Non mi far fare Le riprese Non fare le riprese qui Che c'erano delle persone Che facevano una risa E te hai detto Zitta levati dal cazzo Una cosa del genere Rimetti la clip Rimetti la clip Ma non la cerchiamo Ma non è neanche così importante Diciamo Il focus è un altro Mo che tu Scrivi Ercole Ercole insulta pesantemente La madre d'Elia Cioè tu sei conosciuto per questo Ma no allora Ma io ti dico Che tutta Roma Ti aspetta Ti stiamo tutti aspettando No ma Non va cavallare Allora Aspetta aspetta Fate parlare un attimo Ercole Che non ho capito un cazzo Voi state trasformando Le parole Voi questa cosa che fate La fate sempre Sempre Tutte le volte Uno dice ciao E voi dite che Questa persona ha detto Vaffanculo Ti faccio sentire il microfono Io non ho mai detto Levati dai coglioni Puttana di merda Una donna La puttana io non me lo ricordo Sinceramente No no Non l'ha detto Non l'ha detto Non l'ha detto Che cazzo parli a fare Se non te lo ricordi Cazzo Che cazzo parli a fare Ah no Non mi ricordo Non sappiamo se verrà Aspetta un attimo Ma stai a parlare con me Non ho capito Con quello che ha detto Non l'ho detto io Io non l'ho detto Sono io Già Marco Non l'abbiamo detto infatti Che hai detto puttana Sì L'avete detto prima Non l'ha detto Elia Non l'ha detto Elia Gli hai detto comunque Stai zitta Levati dal cazzo Fatti i cazzi tu Una cosa del genere No no E che cosa hai detto Comunque abbiamo trovato la clip E ora la mettiamo un attimo Secondo me Non è neanche questo Sì comunque Non è proprio adesso Il fulcro della cosa No ma secondo me infatti Non è una cosa Proprio per niente Stai in live l'altro giorno Eravamo 10.000 Quindi stanno tutti i testimoni E su Youtube Però anch'io non eravate 10.000 Allora io Io mi ricordo Che prima dell'aggressione Del conflitto Poi è stato off cam Quindi non so chi l'abbia preso Immagino l'altro Che poi è saltata l'asta L'asta della camera Ti sei rivolto a questa ragazza E hai detto delle cose Però se dici a una Stai zitta Cioè non è quello il punto per me In generale Il tuo atteggiamento È che alla minima provocazione Rispondi con una violenza verbale inaudita E sinceramente da uno streamer Questa cosa è inaccettabile Giusto Ma non è vero Ma possiamo farmi gli esempi Scusa Alla piazza All'autobus E un altro De che non ricordo che era Allora Ti racconto questa dell'autobus Perché voi ovviamente Sai allora Il vostro grandissimo problema Come quello di tantissime persone Su questa cazzo di piattaforma È che voi Raccontate agli spettatori Una cosa vista da voi Come spettatori Perché voi sapete Tutto quello che c'è intorno Ok Non è giustificabile in alcun modo Ercole Non mi sto giustificando Dire ti stacco la testa A un ragazzino Anche se quello Ti ha detto delle cose Non è giustificabile Allora aspetta un attimo Non mi sto giustificando infatti Perché c'è un casino dietro Dai il microfono Un attimo Elia Che è successo? No niente Sare detto cosa riprendi Perché l'aggredisci E poi gli ha menato Al suo amico Gli ha menato Che aveva avuto 15 anni Ci avrà avuto Penso Penso che con tutte le cazzate Che abbiamo in elenco Questa sia una dei meno peggio Però comunque Tiramene fuori l'altra Nel senso Fate tanto il bullo Io so Perché quello pesate meno Poi allora Le donne che fanno Le insultiamo Non so Ma come ci pare Ma guarda che Nel senso Non è che Non è che tu e clip Su YouTube Ce ne sono Che ne dici di meno Tipo alla tua donna Vabbè ma stiamo a fare la guerra Chi è più scemo Io ti sto Ti ho detto un'altra cosa Stiamo parlando Allora YouTube Mi state attaccando Al fatto che io Ho inquadrato Ti ti spiego Com'è andata quella volta Prima hai detto Che non era vero Però muovi Che mi ha già avversione Ma va bene Dai però Se ce ne ripia per culo Io me incazzo Cosa hai detto Che non era vero Hai detto no Non è vero Vabbè dai comunque Il discorso per me è questo Non è vero Nel senso Non è vero Non è vero Non è vero Allora tu stai dicendo Non sappiamo Vediamo da spettatori Ok spiegami La sequenza del bus Vai La sequenza del bus Io me ne stavo andando a casa Io me ne stavo andando a casa Mi è partito un orgasmo Che non ho fatto partire io Come voi Dite ah mi chiamai sul bus Fai partire gli orgasmi Vabbè lo sappiamo come funziona Ti sono arrivati i beats Comunque si è messo A tutto volume Per questo ti dico Per questo ti dico Che voi commentate le cose Da spettatori Ma le live le facciamo Prima che nella tua testa Esistesse Twitch Quindi lo sappiamo come funziona Avevi la cassa attiva Sono partiti degli orgasmi Quello si è fatto Noterculo Anche lui ha sbagliato Ok E tu rispondi a un ragazzino Ti stacco la testa Di volo dal bus Cioè capisci Lì il content Tu sei il creator Capito Lui ha sbagliato Ma tu sei un Adattato al suo modo Vabbè marra Parlamose di uno Ma che hai fatto Lui il content Si è basava su te Che quasi devi arrivare E botte cortizio Tu ore in là Dite a urlasse Tipo dei chihuahua Col guinzaio Che se urlano Nessuno fa un passo No Quello è uno show pietoso Che su Twitch Non deve esistere Come quello che tu porti Che per me è merda Cioè proprio semplicemente Perché si basa Sulla violenza fisica Sull'attaccarsi E per me è pietoso E io te vedo Come un pagliaccio Poi i soldi Su ste cose Non è che meno uno Per i soldi Ma io quante persone Ho menato Scusa Ma io che cazzo Stai su Twitch Da due mesi Ce stanno solo ris Ah sì Quello che ti è partito Il bastone Non l'hai menato Quello mi ha preso Il telefono Mi voleva aprire Il telefono Dalle mani Quindi gli hai menato O no Gli è arrivato Il mio telefono In faccia Sì Gli hai menato Gli è arrivato Il mio telefono In faccia Non l'ho toccato Con un dito Ma non è vero Che poi andavi Tutto in giro E facevi sì Sono io quello Che litigava prima Porco Cioè ai 50 anni Ci dovresti avere Duvì Ci dovresti avere Ci dovresti avere E stare a campare Se dovresti essere come te Anche no Porca puttana Vabbè Demono Andiamo Parlando di cose serie Parlando di cose serie Parlando di cose serie Parliamo di cose serie Anche il tipo Sul Pullman Che voi dite Ah amica Che sta con la testa Cazzi e mazzi Questo è partito in quarta Io come ho detto All'inizio della clip C'avevo un mal di schiena Della madonna E non vedevo l'ora Di andarmene a casa Secondo te io prendo E mi metto ad attaccarmi Con un coglione Lo insulto Mi rompe il cazzo Ti insulto Io c'ho una produzione Lombare L5S1 Da dieci anni Ma non ho mai risposto Così a nessuno Però ok Ho un mal di schiena Anzi ma dai Ma guarda che Anche tu l'hai commentato Quando ho detto Che avevo la schiena a pezzi Sì Appunto Eh Allora io l'ho riappoggiato E non mi sono spostato da là Ho detto È una cosa rognosa Sì Ma mica questa era giustificazione No no Ma non è una giustificazione Ma senza Contando il fatto che Io adesso non so Voi in che ambiente Siete nati Cresciuti Ma dove Calcola Quando vieni a Roma Te lo faccio vedere Il mio frate No 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 Eh ok Mica ho detto nulla Quando vieni a Roma Te lo faccio vedere Dove sono andato io Aspè facciamo parlare un attimo Ah ok Eh Aspè Devono parlare a quelli Che c'hanno i dattuami A me sta chiamando Social Boom Pronto Siamo in live Spero che non sia Vero che sanno Che sanno Lì che tutto quanto Kid Che mi sono fatto picchiare Per fare hype Eh sì L'ha detto No Ho detto È tutto recitato L'ha detto Posso gentilmente intervenire E fare purtroppo Soro Eh sì Entra su disco Vabbè certo Che puoi intervenire Te pare che non Te facciamo parlare Noi siamo sempre aperti Vieni in vocale 1 E vabbè Entra senza gamma Entra in vocale Sì Vocale 1 E verrai spostato Dal nostro operatore Marco Chitano Vocale 1 Vocale 1 Entra senza gamma Non ho capito Che deve dire Però l'ho sentito Abbastanza contrariato Che è successo Allora Aspettiamo un attimo Che entra Social Boom Lo stiamo pescando Aspettiamo che mi stai a chiamare Ok Oh Ah perché qua non prende Non mi va a chiamarlo su Whatsapp Eh perché qua non mi prende Trollano Vabbò intanto andiamo avanti Intanto che sistemiamo questa cosa Stavamo a parlare del fatto Dell'autobus No stavo parlando del fatto che Se quando io avevo 20 anni Dicevo una roba del genere O di tiravo minacce Uno di 35 Non sarebbe finita molto bene Capito Siccome siamo nel 2021 E se la sentono tutti Ma veramente tutti Cioè nel senso Perché io dovrei stare Paccato e tranquillo E dirgli no Scusami hai ragione Aspetta che abbasso la cassa A uno di 20 anni Che mi dice Che cazzo Ti riedi Che cazzo vuoi C'è 50 anni Fai le dirette Cioè Io devo prendere E stare tranquillo Per dargli l'esempio Che cazzo di esempio Vi devi dare Però scusami Ma può succedere Ma può succedere Una volta A Natantum Che uno si ritrova Che deve rispondere a tono Però Te ce stai a basare Proprio il tuo content Ah sì Cioè dai È proprio palese Che tu ce stai a basare Il tuo content Sull'andare in giro Per strada Dare la gimmick De quello che Te spacca al culo Che è forte Che poi è proprio La classica definizione Del debole A casa mia Ed è una cosa Che a me francamente Non piace Ma te lo dico Con completo Senso offene Ti date tutto Ercole Ti posso dire una cosa Ma secondo te Un ragazzetto di vent'anni Se rispondi in quel modo Lo educhi Oppure continua Ad alimentare Il suo atteggiamento Violento Che comunque Anche lui ha avuto In quella circostanza Ma te lo chiedo seriamente Perché non sei Una persona subita Quelle persone lì Non sono educabili Quelle persone lì Noi come educano Per educarle È trovare qualcuno Che gli rompe il cazzo Che questo qualcuno È bello storto E lo piega E lo manda a casa E è piegato Ah però poi Se lo faccio io Sono un bullo Allora Ma tu lo fai a gratis Ah sì A gratis Certo Lo sai te Lo sai tu Dietro quella telecamera Lo sai Che io lo faccio a gratis Lezione di rieducazione Ti raccontiamo la storia Com'è che tu sei arrivato Con Social Boom Però A quel momento lì Qual è stata la costruzione Perché sembra quasi Che tu voglia dire Io non l'ho fatto Solo per Alzagli le mani Ma c'era qualcosa Di molto più grande Eccolo Eccolo Quindi c'è anche lui Quindi lo domando a entrambi Io Sinceramente Ho visto gente Che mi è entrato in chat Dicendo che mi sono fatto picchiare Per finta Per fare hype Io Spero che Non so chi lo abbia detto Non so Chi abbia Ok Non me ne frega un cazzo Di quello che ha detto Non so se qui in chiamata Non mi interessa È qua fisicamente Sta qua da noi In studio Qua da noi Allora Elia tu devi capire una cosa Nella vita Tu hai avuto fortuna Che hai beccato una persona Contro la violenza Brava e tranquilla Nella vita tu non devi mai Tirare troppo la corda Perché la corda Ogni tanto si spezza Eh ma che corda Spezza Che corda ho spezzato Fammi capire Devi stare Devi iniziare a capire Eh che cosa Ho detto le stesse cose Che hai detto tu in live Fammi parlare Devi iniziare a capire Che tu nella vita Quando ti ritroppo la corda La corda si spezza Al mondo Non sono tutti bravi come me Ricordo di questo Eh ho capito Ma che cosa ho fatto Detto questo Chi vuole che Fai a me parlare Che me ne devo andare C'ho da fare Detto questo Chi vuole credere A queste cose Può crederci A me non me ne frega Assolutamente un cazzo Chi vuole credere Che io mi sia fatto Spaccare un labbro Buttare in una piscina E prendere a schiaffi Per finta Può crederci Non me ne frega un cazzo Ma infatti l'abbiamo detto Che non ci crediamo Stavi addi pure te Però fino a ieri In live È zitto e farmi parlare Ti devi stare zitto E mi devi far parlare Non voglio più sentire Né un messaggio Da parte tua Né un messaggio Su questa storia Non voglio più Saperne un cazzo Ve lo giuro Scannatemi fra di voi Scannatemi fra di voi Non me ne frega un cazzo Fate il vostro show Qua non si sta scannando Nessuno social Qua noi siamo Per la verità E per la realtà Ok Siccome sei per la verità E per la realtà Allora non mi nominare A cazzo di cane Fate il vostro show Fate il vostro seguito Non mi dovete tirare in mezzo È passato un mese Da questa roba Ho perso due riunioni di lavoro Perché ho ricevuto una denuncia D'ufficio da Pescara Che sono andato a correre col treno A andare in questura Non ne voglio più Sapere un cazzo Non vi dovete più permettere A tirarmi in mezzo In questa storia Ok Ma scusa Ma questo No no De moment cazzo Allora Con tutto che te sei la vittima Qui eh Perché tu sei la vittima Sei stato Umiliato Però Aspetta Però io non posso Passare sta cosa Che tu devi dire all'altro Non parlare di me Non fate Quando tu sei social boom Quindi adesso Noi stiamo qua A parlare Una cosa pure abbastanza grave Perché pure col messaggio Che è Passato È penoso Perché qua Sta quasi a passare il messaggio Che la gente Ti può mettere le mani addosso E non gli succede nulla Guarda che è Guardate che è molto Pericoloso Pure per te Soprattutto posso dire una cosa Eh oh allora Posso dire una cosa Anche tu In live hai detto Terminate cose però Quindi non te ne lavar le mani Perché fino all'altro giorno Hai detto Le stesse cose che ho detto io Non è che io sono stupido Che sto fastiduta Di certe cose Mentirò Diro Che tutto è ripetato Aspetta Elia Fammi parlare Anche tu hai detto Io mentirò Dirò che è stato tutto recitato Quindi qua stiamo cercando Di fare una ricostruzione Sto spalleggiando la tua teoria Che cazzo vuoi moda me Non ho capito Però al di là di quello Stiamo cercando Stiamo cercando Di ricostruire tutto Fortunatamente si è intervenuto Anche perché noi Non abbiamo creduto A questa balla E almeno Hai detto le cose come stanno Ma non è importante Che nessuno ci creda Come lui ha detto Non ne parlate più Io sto perfettamente d'accordo Perché pure a me Sa un mese Che mi stanno a dire Sti cazzi Ma si è fatto una cosa grave Ma infatti Non è che io sono andato In questura Ma infatti Io non è che mi sono messo A piangere O sono andato in questura E ho detto Ho detto Assalo parlando di me Fate pure Ma tu sei stato il carnefice Che devi piangere Ho detto parlatene Però poi non mi venite A dire a me Ah no Tu ne stai parlando E io mi sto appoggiando A quello che dite voi Se no mettetevi d'accordo Fate una riunione Ma nessuno si mette d'accordo Io voglio sapere Solamente come sono andate le cose Ma proprio per la verità Ma pure per Fa sì che la cosa Finisca nel miglior dei modi E che passi finalmente Un buon messaggio Non quello che sta passando Perché è un messaggio atroce Quello che sta passando Non mi sembra Visto Visto quello che sta dicendo Socialbub Ma lo sa Chiedi a Francesco Chiedi a Francesco Se è finita là E lui ti risponderà È finita là Francesco Non è finita Ne ha parlato fino all'altro ieri Ma fai rispondere a Francesco Visto che ce l'abbiamo In chiamata ora Ma non è che decidete voi però Come non è che decidete È una cosa mia e sua Io la sto dicendo La cosa mia e sua Poi del resto Che cazzo me ne frega La vita vostra Fate quello che volete Io dico Come l'hai percepita Tu questa cosa Che è successo Non so Mi sa che è uscito Non so se Ercole Tu che stai in chiamata Che vedi Che è uscito Francesco Sì è uscito È uscito È uscito È uscito apposto Vabbè Ha detto quello che doveva dire Da quello che ha detto Sembra che sia Tutto quanto vero Vabbè C'è sta chiapia per culo Sì Ma io non devo chiapia per culo nessuno Vabbè Sì però È recitata apposta È tutto finto Vabbè dai però Qua veramente Stiamo alle comiche finali Le coliche Le coliche finali Vabbè No il fatto è grave Ti ripeto Perché comunque Cioè Pure lui si è messo a dire Io mentirò Dirò questo Dirò quello Quindi è stata fan casino Il punto è questo Per me Una roba del genere Oltre altri comportamenti Che abbiamo sottolineato Pure di Ercole Ma la faccenda È molto meno grave Sono Inaccettabili Questa piattaforma Appunto Sta roba Devi finire Infatti sottolineiamo Che io non ci sto Me ne tiro fuori Io faccio trap Non faccio Twitch Ridi Che ridi Che tu C'hai 50 anni E fai Twitch E vai a ritirare le sedie Alle due di notte Dai cosi Che dici Lui non è che fa il barista Che dice No lui va a ritirare le sedie E basta Alle due di notte E sta ambriaco in giro Va a ritirare le sedie E torna a casa Questa è la sua vita Quindi che cosa ridi Se ti dico La trap Frat Oh mio Dio Faccio la trap Bro Lo vedi il chain Bro Guarda questo Agitane Inquadra me sto chain Inquadra me sto chain Inquadra me sto chain Posso staccare un filo Per stendere Lo attacco insieme Magna dalla ciotola Magna No A ciotola Vabbè comunque Comunque tornando a noi Visto che abbiamo capito Che Oh mio Dio 50 anni In shaman con chain Però devo dire Effettivamente No no 50 anni in shaman con chain Devo dire Che mi è piaciuta Per quello Non posso di niente Vabbè Purtroppo è una situazione Tragicomica Vabbè Facciamoci una risata Perché veramente Ma rica Ma fateci tutti Perché qua vi state a preoccupare E il culo non è vostro Cioè Ma quello Quello più preoccupato È colui che non è presente Cioè due dubbi Che ha avuto una paura Di essere presente Inimmaginabile oggi Il culo non è nostro Però sì Cioè nel momento In cui uno vede Un atto come quello Che hai fatto tu È da condannare Su tutta la linea Perché per me Ma che è la prima volta Che si vedono volare Due pizze in Italia Cioè Ma che vuol dire No ma non è la prima Non sarà nemmeno l'ultima Ma che vuol dire Ammazza una persona Ma che è il primo omicidio Cioè ma che discorso è Però tu metti così Tu metti che Twitch È Gotham Ma io sono Batman Eh Come te Batman è infame e fracido Mi dissocio da Batman Appunto 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 Guarda qua il siparietto Però di quello Di quello Di quello Di quello che dico io No Basta Mo tu ok Che stai fuori da Twitch Però pure Ercole Che non vuoi ammettere La realtà Su cosa si basa Il suo format Stai a fare delle cose Veramente penose No Sai io cosa faccio Sai cosa faccio Sai cosa faccio io Quando Quando esco in RL Io vado in giro A far da bere alle persone Flame Sì a Fredè Lo facevo pure io A 12 anni però Tu ce ne hai 50 Momento persone adulte Un attimo Stavo dicendo Aspetta Adulti o vecchi Sì i vecchi adulti Scusi Bambini dopo Stavo dicendo Baby Io prendo Esco Esco di casa Con due bocce di pampero Con gli sciottini Vado in giro A freddare le persone Ok Adesso Non devo parlarmi Di Stigazione all'alcolismo E cazzate del genere Perché io Di tutte Le 6 ore 7 di live Che faccio Voi prendete Quei 10 minuti Quei 20 minuti Che vanno su youtube Perché alla fine Sono quelli che fanno i click E voi vi basate su quello Ma tutto quello che c'è intorno Voi non fate vedere Un cazzo Scusami un attimo Però io non ho fatto Un'analisi Sul canale di Ercole Ok fammi finire un attimo Semplicemente Se io vedo C'è un problema De fondo Marra Non pensi Se io ho C'ho un canale fantastico Di divulgazione scientifica E Nel tempo libero In 5 minuti Sono un cannibale E questo va su twitch Allora parla tu E no no vai vai Prego Giusto Porca puttana Scusami no Allora io prendo Quando esco in RL Che magari faccio 5-6 ore di live Io conosco Più o meno Una cinquantina Di persone al giorno Che io mi siedo con loro Non so neanche chi cazzo sono E con il pretesto Di offrirgli uno sciottino Io parlo con loro Sento la loro storia Che cosa fanno Studiano Lavorano Vai a fare beneficenza Non a far bere I ragazzini Vai a fare beneficenza Ma non è alle 16 Il momento dei bimbi Un attimo Ancora un quarto dopo Perciò questo Io faccio Prendo E conosco persone Poi se voi Se viene clippato I cinque minuti Sul pullman Dove trovo il coglione Che mi minaccia E gli rispondo a tono Va bene Va bene Va bene Ma tutte le altre sei ore Io le passate ridendo E scherzando con gente Che non sapevano nemmeno Che cazzo fossi Fino a due minuti Senti Ercole Io ti voglio dire una cosa Lo sai che questa Non è un'argomentazione Sì Certo che è un'argomentazione Ma che vuol dire Ma se tu fai beneficenza E poi in cinque minuti Ma magari facessi beneficenza Sei tu che non capisci un cazzo Nessuno sta dicendo Quella Era un esempio Se tu facessi beneficenza Per quattordici ore al giorno E poi in cinque minuti Ti metti ad insultare A minacciare di morte Le persone A fare flessioni In mezzo alla strada A picchiare persone In che modo La tua beneficenza Andrebbe a rimuovere Queste componenti In nessun modo Quindi non è un'argomentazione Uno potrebbe dire È un'argomentazione Perché il mio canale È più variegato È migliore Di come lo descrivete Ma questo Questo Non toglie la gravità Da determinati fatti Che abbiamo sottolineato E negarli Mi sembra una cosa assurda Dato che ci sono i video Ma un'altra gravante È pure quella Che non è che è successo una volta Dicevo è successo una volta Devo vado in live tutti i giorni È successo già nel poco tempo Dove tu ti stai a far vedere È successo spesso Degli atteggiamenti Comunque da parte tua Che sono abbastanza violenti Ma te l'abbiamo detto Allora quella cosa Quei due eventi Che avete parlato Del telefono in faccia al tipo E della tipo Che gli faccio Che cazzo vuoi stronza È perché La tizia mi ha insultato Ah se lo riguarda bene Allora Levati dai coglioni stronza Che cazzo mi insulti Non so neanche chi cazzo sono Cioè nel senso Non che sia qualcuno Però non vado dalle persone Che non conosco A dirgli levati da cazzo Non filmare Ma come no Si sta nominando Gli amici suoi È normale che ti dice Non firmare no Ma che vuol dire Ma tu Ma tu lo sai Quanti anni c'aveva Quei ragazzino Che gli ha tirato Il cellulare in faccia Ci avrà avuto Boh non lo so 25 anni Mi sembra Più o meno Quanto hai detto 20 anni Anche perché era amico Di un mio amico Comunque Proprio da regolamento De Twitch Se persone In un posto pubblico Ti dicono Che non vogliono essere riprese Tu non le devi riprendere Quindi non è che gli dici Che cazzo vuoi Stronza o cose varie Ma lei non era Nell'inquadratura Ma guarda Che ti dicono Te non riprende Sono amici suoi E loro in quel momento Non posso Allora Allora io ti dico Non riprendere il mio amico E tu non devi riprendere il mio amico Vabbè se stai live Te lo può chiedere in realtà Te lo possono chiedere In realtà Lei stava nel giusto Almeno non fare il coatto Quello diciamo In quei casi Poi capisco che uno Si nervosisce Se provano a rubarte il telefono Però è una ragazza Che sta anche nel giusto Poi dici sempre che tu Fai il gradasso Solo con chi se lo merita Secondo me Qua ragazza Non se lo merita Allora sono soltanto io Il coglione No no Però in quel caso Secondo me In quel caso Secondo me La ragazza Non se lo meritava Quello In quel caso Non eri tu Che combatti solo Con chi se lo merita Capito Ma la tipa Mi ha insultato Ma regà Bella per quella tipa Scrivimi su Instagram Calcola Che ti giuro Ti mando uno spoiler Vede loro Secondo me Sta morendo Dalla voglia Di ricevere Tu spoiler Quella pischella Se è un chain Può essere Senti una cosa Ercole Ma il chain Te lo vai a fare Il chain Non no Perché se no Passiamo a parare De nulla A me mi fate ridere Perché siete un po' comici Involontariamente Però Mo' seriamente Cioè Che dobbiamo fare qua Nel senso Io non è che voglio fare Il giudice e tutto Però se vedo Sti comportamenti E poi L'argomentazione è Ma non faccio solo quello Eccetera Io ti voglio chiedere Ercole Ma perché te comporti così Cioè Hai bisogno di affetto Hai bisogno di content Io penso che tu non sia una persona di merda Però ti comporti di merda Perché Ma poi Nel momento in cui sei un creator Mi comporto di merda con le persone di merda Tu adesso Ti stai facendo anche un lavoro su Twitch Ma tu vuoi una giustificazione Per attuare la tua violenza Allora Perché guarda Che chi dice Io aspetto Chi se lo merita Per Fa quello che fai Significa che Che te De base Vuoi Perpetrare violenza E peraltro Cioè questo lo state dicendo voi Perché a me non mi è mai successo Perché a me in 29 anni mi è mai successo Io ho sempre evitato Io penso che avrei fatto a botte 50 volte in un mese Mi sono successo ma non ho mai reagito in questo modo Io ho fatto la botte tre volte in vita mia Eh ammazza Tutte e tre su Twitch Tutte e tre su Twitch Per regola Mi parlate di fare a botte Che ho dato in faccia al telefono a un tizio che me lo voleva togliere dalle mani Ma poi che vuol dire Ma come Come si è sviluppata quell'azione Me la ricostruisci un attimo Per capire Che il tizio mi ha Mi ha preso l'asta del telefono Mi stava mettendo le mani addosso Io ci avevo in mano il telefono E io gli ho dato il telefono in faccia Che cosa dovevo fare Cioè come gli hai dato Così Eh Così Come una catapulta Che vuol dire il telefono in faccia No veramente chiedo Ce l'avevo attaccato all'asta no Quindi gli hai dato Una specie di bastonata Il socio d'addio Non è morto Oh il telefono in faccia Marra che cazzo ti devo dire Mimami l'azione Fammelo vedere Una racchettata Ah è appunto Vabbè tipo una bastonata Sì ok Sì ma è di un bastone di plastica Sì sì Vabbè è arrivato un cazzotto Era di pexiglass eh Mica era di ferro eh ragazzi Neanche cos'è il plexiglass Era in pvc capra Stavo dicendo A parte quello A parte quello Dimmi un altro Un altro momento dove io Mi sono messo con le mani addosso A parte il fatto che A parte quello No ma scusa Ma voi mi parlate Allora mi parlate Di molteplici eventi No Ok Mi viene messo in piedi Uno sbilenco Che non sta in piedi Uno sbilenco Va bene Qui si parla di violenza fisica Ma io l'ho pure conosciuto Con voi due Che stavate in chiamata Urlata In faccia come scimmie Allora aspetta Allora vabbè Questo è un episodio Di violenza fisica Violenza verbale Te l'abbiamo già citati altri Minacciare di morte Ti butto giù dal bus Ti strappo la testa Insomma È sempre violenza verbale Sono minacce Sono anche reali Non è una minaccia di morte Ti butti giù dal bus Perché ho detto alla fermata Beh strappo Strappo la testa Non lo so Cioè forse Strappo la testa Te lo concedo Dai Ah grazie Diciamo No vabbè Qualche secondo Magari sì Qualche secondo Magari resisti Però strappo la testa Penso si possa configurare Adesso quello che ti chiedo Visto che pure te Mi stai a piatto per culo Come quest'altro Il punto è questo Tu Queste cose le fai Perché hai un temperamento Impulsivo Eccetera Lo fai per content Sai che stai sbagliando Ammetti i tuoi errori Vuoi farlo ancora No per capire Per capire Se questa piattaforma Deve diventare una pattumiera Oppure no Questa piattaforma È già una pattumiera Eh Questa piattaforma È già una pattumiera Una cloaca massima Sì lo so Però Non è che Se è una pattumiera Devi arrivi a te Che ci caghi sopra Ma non ci cago sopra No C'hai proprio fatto La diarrea Fai un attimo Risponde Voglio capire Sì ma in che modo Cioè ragazzi Voi state State facendo diventare Una cosa così La state facendo diventare così Eh sì Perché invece a me Orco tu Tanto tu pisse Sapessero Mamma mia davvero Annasserà più Le cartelle Le cartelle Dei giudici miei Così vediamo se Du pisse Sono pesanti Vabbè sì ma che porti pure No è per dirvi Ma comunque io qua Devo veramente Sto a fare tipo Io te lo giuro Che nella vita Ma perché stiamo in contesti Proprio Anche il tuo carattere Poi da quello che so Sei stato in galera Più volte Quindi magari hai Degli atteggiamenti Di questo tipo Non lo so Lo dice lui Ma io non so Che cosa c'entra Stai facendo Mi stai facendo Lo stereotipo Del galeotto Non ho capito Il galeotto violento Ah sì Tu mi hai detto Hai detto che sei andato In galera sei volte Quindi avrai No io non ho mai detto Che sono Vedi che Vedi che voi Avete questo modo Di Come si dice Di raccontare le cose In un modo di merda Ragazzi Arrestato sei volte Va bene Ma come Arrestato sei volte Va bene Porca di una puttana Tra stare in galera Sei volte E essere stato arrestato Sei volte C'è un abisto Voi non sapete raccontare Vabbè arrestato sei volte Comunque sembra Una persona abbastanza tranquilla Va bene Ok Nel senso è basic No pure noi Siamo stati arrestati Perdonami Perdonami E la normalità È essere arrestati Significa proprio Non puoi fare Non riesci a usare Flame Tu col sarcasmo Veramente siete No 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 Ma che sarcasmo Ti pare Ma essere arrestato sei volte È una normalità Vabbè Ercole Io stavo cercando di dirti Allora stavo cercando di dirti Maledetta la galera Cambiamo discorso Che è meglio per voi Dai Stavo cercando di Chiederti una cosa Ti sei costruito Questo personaggio Super forte Io non ce l'ho Un personaggio Ti sto facendo una domanda Infatti Puoi rispondermi anche di no È peggio Ti sei costruito Questo personaggio Scusa Scusa Io non ce la faccio No no Aspetta A me quando insieme sale un veleno Io non ce la faccio Non ce la faccio Lo vorrei vedere Ridere davanti a me Non ce la faccio Ti sto dicendo Ti ho detto Io non ce l'ho un personaggio Ok Va bene A posto Allora la domanda è Perché rispondi in questo modo Ti comporti in questo modo Hai questo temperamento violento Verbalmente A volte anche fisicamente Io rispondo per i toni Alle persone che mi rompono il cazzo Ok È giusto questo secondo te? Non è una questione di giusto o sbagliato Ci sono persone Che stanno zitte Chiedono scusa Quando la gente fa la stronza con loro E a me non va bene questa cosa E a me non va bene Che una persona si comporti così Lo posso dire Non seguire il mio canale Che cosa vuoi che ti dica? Vabbè Visto che siamo sulla piattaforma comune Mi auguro che questi episodi Vadano a scomparire Sì ma A te cosa te ne viene in tasca? Me ne viene che sinceramente Non voglio Anche in maniera egoistica Se ti arrestano Settima volta Al massimo è content Quindi non è che Ma perché mi dovrebbero arrestare Per la settima volta? Cioè qualcosa Beh mica Gli arsi le mani a un piscello Nell'autobus Secondo te Non te mettono Della capachina Entra la volante Eh? Anche minacce È reato Comunque vabbè Se permetti Anche in maniera egoistica Non voglio che la figura Dello streamer Passi come un bulletto Come una Continua Eh Violenza Inirla Verbale Non solo Come cazzo si dice Il fatto è che La figura dello streamer Come streamer IRL Ormai è diventata Una cosa Sono come dei bersagli No? Oh minchia Andiamo a rompere il cazzo A quello Dai minchia Facciamo bannare quello Dai minchia Andiamo a spammargli Una bella n In chat A quello Eh? Ormai è diventato questo Sono altre persone Nel cazzo Quelle che fanno così Eh ma ho capito Ma sono utenti Non sono streamer Voi state dando Ma anche questi sono Sono dei comportamenti Di merda Ma che c'entra E' benaltrismo Cosa vuol dire E' benaltrismo Che cosa c'entra Con quello che ti ho chiesto Io se ci sono altre persone Che si comportano Di merda Nella tua live No io non sto parlando Nella mia live Io sto parlando in generale La figura dello streamer E' ormai diventato Un bersaglio No? Va bene La gente per apparirti Nella clip di youtube Dove sappiamo entrambi Che la clip di youtube E' la cosa più cliccata Addirittura della live stessa Quello che hai fatto te Con me Quello che hai fatto te Con me il gabbrone Esattamente quello Infatti Beh se tu ti facci Allora 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 Ma al di là di questo Ma al di là di questo Eh A me sta sui coglioni Che la gente Deba andare Dalle persone Che stanno in giro A fare live Per rompergli la minchia A me sta sui coglioni Questo E sta sui coglioni Il tuo atteggiamento E quello che fai Non è che una cosa Esclude l'altra Ancora 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 Io una volta Allora Se io rispondo Comunque per le rime Alla gente Senza minacciarla Eh io sono a posto Non rischio nemmeno Il banno su twitch Ti strappo la testa Eh ho capito Ti ho appena detto Se io rispondo alla gente Cosa che sto facendo Da quando Da quando M'hanno sbannato Ah quindi da tre giorni Vabbè È già passata una settimana Ah vabbè Avendo cambiato Avendo cambiato Il modo di pormi Nell'ultima settimana Con la gente Se verrà il prossimo A rompermi il cazzo Sicuramente Non gli farò minacce di morte Ma che risponderò Ma che risponderò Comunque per le rime E a quel punto Che cosa avrai da dire Ok Dipende come rispondi Certo Se uno ti rompe i coglioni Rispondi Dici non me cagare cazzo È un conto Se dici Ti strappo la testa Te volo dal bus È un altro Porca puttana Ma con chi cazzo Ho parlato adesso Porca puttana Col comodino Eh ti sto dicendo Se questo è il tuo obiettivo futuro Sono contento Però si sta parlando Di quello che hai fatto Una settimana fa No sei mesi fa O sei anni fa Ma io non ti sto Non ti sto mica dicendo Che quello che ho fatto Sia giusto Ah è meno male C'è voluta un'ora di live Per dirlo È meno male Ma non me l'hai mai chiesto Veramente te l'ho chiesto E tu mi hai detto Non è un concetto Di giusto o sbagliato Te so però Occhio è un po' di fosforo No Ride? Top Joker Porca troia No io sto posto Io ho finito Cioè io questo volevo dirti Devi stare attento pure Perché magari non sei fortunato Come Elia E non vecchi uno Come social boom Che non ti denuncia Perché magari quello sull'auto Ti poteva denunciare Anche soltanto Per minacce di morte Comunque Magari non ti facevi in carcere Ma me l'ha fatta anche lui Le minacce di morte Me l'ha fatta anche lui Pure lui Pure lui infatti Può essere tranquillamente denunciato Un consiglio proprio Come magari Elia è stato fortunato Quello social boom Ha deciso di non denunciarlo Però te potresti Non essere così fortunato Quindi te lo dico Come consiglio Ma io non sono mai andato A rompere i coglioni In prima persona Io mi sono sempre difeso Ho sempre risposto Pure se quello ti dice Levati dal cazzo E ti rispondi Io ti ammazzo Ti stacco la testa Pure se è iniziato lui Dicendo solo allontanati Però è lui Se te che hai esagerato Minacciandolo di morte Esatto Non è che funziona Ma è ovvio che nella rabbia Non è che ti rompe i coglioni Per primo Però c'è una prova video Non funziona così Perché sobravi tu Ti andai in giro E aspetta l'occasione buona Per poi dire Eh 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 Però oh oh Guarda che me ci hanno portato Ma dipende Ma se tu alla prima sbotti Significa che tu quello Lo stai aspettando Quindi mo mi stai più a per culo Lo sto aspettando Che cazzo sto aspettando Io non vedo l'ora Non vedo l'ora di darmene a casa Che cazzo dovevo aspettare Aspetti l'occasione Così almeno poi C'è la paraculata Sul piatto da gente E ti dici Eh ho risposto Eh M'hanno risposto male Io ho risposto Eh mi ha fatto così Io da perfetto Il telefono in faccia Quando cazzo mai Hai visto una cosa del genere Da parte mia Che io mi vado a cercare Il La brutta risposta dalla gente Ti ripeto Tu Io do per scontato Che tu te la cerchi Dal momento Che non fai nulla Per evitarlo Quindi non prendermi Per il culo Ma cosa devi dare per scontato Cosa devi dare per scontato Flame Mi conosci da una settimana Che cazzo vuoi dare per scontato Non mi conosci Gli uomini si giudinano Dalle azioni Non Così Ma dalle azioni Ma non dalle clip di Youtube Zio io faccio le lezze Twitch Io non ce l'ho un canale su Youtube Ma che vuol dire Ma sono azioni filmate Ma che vuol dire Ma non c'entra un cazzo Ma se uno filma un assassino Quello può essere pure Una persona educatissima Però è sempre un assassino Se è filmato Salutava sempre Salutava sempre Sì ma tu mi stai parlando Di uccidere una persona È una cosa totalmente diversa Cioè voi avete questo vizio di merda Di estremizzare le cose Che veramente è una barzelletta Ma se tu che dici cazzate Io con iperbole Ti faccio capire Che spari cazzate Ma io non dico cazzate Io non dico cazzate E no mi conosci Delle clip di Youtube Ma se quei clip di Youtube Fai delle cose atroci Come la fatta Elia Giudico quell'atto Poi nel tuo caso Sono stati più esempi Cose atroci Cose atroci Di che cosa Dobbiamo ricominciare Dobbiamo ricominciare Perché ho mandato A fanculo una tipa E perché ho dato Un telefono in faccia All'altro Che mi ha lavorato A togliere dalle mani Vabbè hai detto poco Porca puttana Sei una merda No al bullismo ragazzi Non agli uomini Come questo Rispettate le donne Amate il prossimo Gang Vabbè detto da te Fa un po' rile Dai che Curci BD Sei un po' rilassato Parla a mic Parla a mic Parla a tre ore Pure a live chiusa Non sono Io non so così Io davvero So contro il bullismo So contro la violenza Che cazzo stai a dire Te lo giuro Sulla tomba di mia madre Io su queste cose Non ci gioco Io sono assolutamente Contro Il bullismo Io se mi vedo Il filmato Dico Allora per dire Quindi se rivedi Il tuo filmato Cosa pensi Se rivedi il mio filmato È una cosa mia Ragazzi Nel senso È una cosa mia Quindi sei contro il bullismo Quando viene pedrato da altri No 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 Contro chiunque Io anche se vedo uno per strada È in difficoltà Anche contro le minoranze Anche sempre Dalla parte delle minoranze Da quando sono piccolo Sono stato Da quando andavo Allo stadio A vedere partire di tennis Che tutti tifavano Per il tennis italiano E io magari tifavo Per quello argentino Perché tutti gli davano contro Questa è una stupidaggine Per dirti però Proprio come la penso io Poi ci potete non credere Di danno Ma non è che non c'è No no Ma io ce voglio credere Guarda che io ce voglio credere Quanto voglio credere pure Il nostro signore Gesù Io ce spero Fondamentalmente Io veramente sono contro il bullismo Sono dalla parte delle minoranze Ma tu stai a dista cosa Dopo quello che hai fatto Eh ma che ho fatto Sono due pizze in faccia Dai Ma perché venivi in giro Ma oggi io mi sento Vabbè sì Hai fatto una cosa Anche più grave Di quella che ha fatto Ercole Se è possibile Ma non penso Ma come penso Sì ma da che stiamo a parlare Dai Ma non so due pizze in faccia Dobbiamo ricostruire Dobbiamo rimettere video Ragazzi mi difendono No ce l'avevo con quelli della chat No vabbè ma da Ma qua stiamo proprio Cioè Al ridicolo assoluto Non so se mi è stata più a per culo Tutti oggi Chi ti hanno compreso Sono venuto qua Ero scherzo Ma che era game di camera Era tutta una cazzata C'è una cazzata C'è Netflix E qua ti vanno letto È già un documentario di Netflix Questo Perché io non lo so Mi sono arrivato qua che Non lo so Cioè Ho detto cerco di capire un attimo qualcosa Ma Veramente Mi sembra Sto speciando su Rari Però io voglio Però io voglio parlare di questo adesso Tu stai a dire Che quello che hai fatto a social Non è bullismo Tu come Ma lo dirò fino alla morte Ok Però Ok Facciamolo passare un attimo Però perché Tu sei arrivato a quel momento Che cosa ti ha portato Ad avere Quella reazione No Cioè Qual è stato Perché avevo delle cose da chiarire Diciamo Semplicemente quelle Poi sono state anche chiarite A live chiusa E a posta vi ho detto Fate vedere se è finita là o no Perché a live chiusa Non è che mi sono messo a fare il bulletto Chissà che Io ho detto Lo sai benissimo Che ti potevo spaccare E lui mi fa Sì lo so benissimo Io ho fatto E non lo sto facendo Vabbè io pure potrei farlo in questo momento Ma che vuoi dire? Va bene Fallo Ma che fallo Per dirti Ma dai Io ti sto dicendo quello che è successo a live chiusa Se lo vuoi sapere Bene Però tu che pensavo Tu sapevi che stavi in live Perché c'era in live lui Lui sì Tu in testa tua che pensavi Dicevi io facendo questa cosa Che cosa ne guadagno? Nulla Che cazzo mi frega a me Hanno guadagnato solo gli altri No però dico Se tu fai quello Non hai calcolato Che ci poteva essere una reazione Pure negativa No ragazzi Infatti pensate Per quanto sono stato Magari Per quanto sono stato superficiale E leggero E stupido magari Non ho calcolato Né assolutamente Che dovevo prenderne qualche beneficio Da questa cosa Né tantomeno Avevo pensato a tutta l'ondata Di shitstorm Che ci poteva essere dietro Questa è una bugia Come? Hai detto in live Prendendo il telefono Live me lo prendo io Non c'ho bisogno di te Sì Quello è per un altro discorso mio Suo però Mio di social boom Quello che t'ha portato Ad avere quei comportamenti Cioè che lui aveva preso Le tue storie Non t'ava menzionato E quindi non t'ava dato l'hype Che se prendevano altri individui Che in realtà erano Esatto Però io non è che Non mi è mai fregato nulla Di quello Non ho Non so Non mi sono Mai attacca Cioè non è che io ho detto No tag Anche perché Come ho detto a tutti Ragazzi Io sul canale di social boom Ci sto tantissime volte E non è che ti porta Chissà cosa Che la gente Anzi Io ho detto una cosa Pensa Sta cosa ti giuro Metterei lui in chiamata Io ho fatto Quando abbiamo chiuso la live Che abbiamo chiarito E tutto quanto Lui ha detto Si so che potevi fare Quello che ti pare So che ti sei regolato Però io ti apprezzavo più a te Non c'era bisogno di far così Infatti si sono calmate Molto le acque da subito Non è che dopo la live Se siamo menati Io quando ho visto quella scena Veramente Mi è venuto Eh magari la gente Pensava a live chiusa Questi stavano A torturare In realtà In realtà io ho pensato Che tutto quello che tu ha accaduto Accaduto avanti le telecamere Perché Tu hai accaduto avanti le telecamere Chiuse le telecamere Magari Pure scusa Se no poi mi conveniva tanto Fare anche questi discorsi Nella live sua Tenere la live accesa Come no Ma non sarebbero stati credibili Ma se io gliel'ho fatti a live chiusa Cioè per quali motivi Nel senso Per evitare una denuncia Forse non lo so No 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 Assolutamente Oppure a maggior ragione Proprio perché non ti interessava Non era una cosa personale Ma era una cosa per hype No 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 Allora Hai fatto così Allora la motivazione Non si è capita ancora Qual era della motivazione La motivazione La sappiamo io e lui ragazzi Ah ok Vabbè Bene 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 La sappiamo io e lui Nei dettagli Vabbè Proprio Ma è inutile che ve lo sto a spiegare A voi No in realtà sarà molto utile Perché ti conviene pure a te Ti conviene capire per quale motivo Hai fatto quello Perché quello che è passato È che tu Hai fatto la cosa che odi Cioè Il bullismo Ok E io vi dico Chi ha dovere di quella cosa Dovresti tirate fuori da sta cosa No perché Sì sì Sei contro il bullismo Sì sì ma già l'ho spiegato Te non ti fa male Passare come il peggio bullo Esatto Esatto Infatti io ho detto Che ho ricevuto tanta merda Da questa cosa Però fortunatamente C'ho le spalle grosse Sto sotto tante misure cautelari Io c'ho il rientro serale C'ho le firme tutti i giorni C'ho 3000 ragazzi Quindi nel senso Mi sono preso la merda C'è stato il rischio Che magari Che mi Che ci sta il rischio Che mi peggiorassero Che mi L'aggravamento delle pene E tutto quanto Sono passato per quello Che odio io magari Nonostante io Dentro di me E la gente che mi conosce Lo sa Comunque che i principi Io il giorno dopo Ho fatto una storia Ho fatto Sono sempre lì a 17 baby Non è che è cambiato qualcosa Cioè sono sempre contro il bullismo Sempre Perché lo sanno Ma tu ti rendi conto Che questa cosa È veramente ridicola Dici è molto contrastante Beh Ma te lo concedo Però è così Però ti dico è così Ma che vuol dire è così zio È così Ma se tu a parole Dici una cosa Ed è molto semplice farlo Sono contro il razzismo E poi ti comporti Ok certo E ti comporti da razzista È una cosa contraddittoria no? Sì però È una cosa pure che Fa crollare tutto quello Che sta a portare avanti Cioè la tua credibilità è zero Anche perché pure oggi Ci hai preso per culo Ad esempio Cioè capisci Ma io mi stavo a appoggiare A quello che diceva lui Ho capito Però dal momento Che lui Tu ti sei appoggiato Su quello che stava di lui Non ne parlate mai più Come porco tu Sono un mese Che mi è stato a massacrare Vabbè ma stavamo a parlare Dei social boom Quindi vorrei vedere Che io non posso parlare De lui Er bullo Queste sono altre cose Però quello che ti voglio Dio Tu hai detto Lui quando ha pubblicato I video che 20 persone Mi venivano a mena fuori A ristoranti Cioè dove stavano allora Dove stava il bullismo Dove stavano tutte queste cose Dove stava la pena Dove era Mo perché è successo A lui che c'ha capellino Dove stavano i tuoi amici Eh? Più che altro Dove stavano i tuoi amici Quella sera Ho sentito una bau Ha detto Dove stavano i tuoi amici Di cosa? Quando? Durante la sera Deccan aggredito Stai di Dove erano i tuoi amici La sera che t'hanno Messe le mani addosso Che stai Di due minuti fa Io stavo con due persone là Non stavo con Cioè stavo con due miei amici Che erano in due però E che stavano là Nel senso Si sono tenuti esterni Ai fatti Hanno lasciato partirmi Quello Davanti ai suoi venti amici E non c'era bisogno Di mettersi in mezzo Anche perché poi L'ho parcheggiato Sotto una macchina Quindi non è che c'era bisogno Di mettersi in mezzo O chissà che Però Ok La infatti Non ci sarà stato Il fatto bullismo Perché è finita Con l'aggressore Parcheggiato Sotto una macchinetta E quindi per quella Tutto è concesso In che senso Cioè per esempio Prendere una persona E parcheggiarla Sotto una macchina Ah ok L'hai inserito L'ho inserito sotto una macchina Mazza ma sei stato chirurgico Chirurgico Ma era grosso questo Come me Mazza Ma c'è un'abilità Greve Ma è pure partito Per primo Ammazza Con una bomba Niente Neanche l'ho sentita ragazzi La lotta è andata avanti Ma che ti sei fatto all'occhio No qua ho fatto un incidente Non l'ha sentita la bomba La prima bomba Assolutamente no Ma si vede Che c'era un po' di sugar Che c'era un po' di sugar No Che cos'era lo sugar No niente No comunque stava a dire Tu hai detto Un'altra cosa Un'altra cosa Che ci tengo a dire Visto che l'hai tirata fuori Io non mi drogo Non mi drogo E sono anche contro La cocaina E contro tutte queste cose Cioè proprio tipo Se gli amici Contro le droghe pesanti Assolutamente Vabbè Comunque Torniamo su quello Che stavi a dire Prima Perché secondo me Se merita un'analisi Tu stavi a dire Io ho iniziato a dire Sta cosa che non è vero Perché mi sono tenuto Su quello che stava di lui Però dal momento Che lui è entrato E che ha detto L'esatto opposto Dopo lo chiamerò E gli chiederò Dopo lo chiamerò E gli chiederò Perché io ti voglio dire la verità Perché a me non piace mentire Né motivo Né proprio Né me sta antipatico Sembra Allora lui Da come è entrato È entrato contrariato Te la stai a prendere Un po' Più così E sto cercando di capire Per quale motivo Che ne so Io sto molto Cioè nel senso Sto così Regà Peggio di così Già sto arrestato Che mi devo dire È un po' liquo Sto rega Io ne la faccio più Sono sette mesi Che sono stato infamato Mi hanno mandato le guardie Dentro casa Dicendo che avevo armi e droghe E c'è stata una scacciacani E un tocco di fumo Cioè che mi fumo io Di armi e droghe dici Eh Ah per dirti No no vabbè Per dirti No vabbè Vabbè comunque Sono sette mesi Che per sta tarantella Mi sto a fare Vabbè queste sono cose due Io non conosco Non so Cose che non mi ricordano Noi non sappiamo nulla Di quello che hai fatto Prima dei social boom Queste sono cose fuori nostre Come non so I sei arresti di Ercole Quelle sono cose vostre Sì Beh vagabondaggio abusivo L'hanno arrestato Ho rubato le gole a dora Al tabaccaio Sì Un clochard Abbiamo visto Un clochard Ma dimmi te qua Che mi tocca Vabbè Oh mio dio Vabbè uno qua Cioè nel senso Io veramente Chita Aiutami te Non so più Non so più Che pesci prende Vai vai Chita vai Una domanda Perché molti pensano Che te hai minacciato Magari dopo Per non farti denunciare Da social boom E dicono che questo evento È accaduto proprio Durante la live Del ristorante Che cosa vi siete detti Così ci siamo detti Vi smentisco tutto Non è stato né minacciato Né nulla Anzi Gli stavo semplicemente Chiedendo Chi fosse Chi fosse Una terza persona Che stavano nominando E dicendo Che stava andando Quella a denunciarmi Quindi sono andato là E ho chiesto Ma chi è questo No io non mi ha detto No io non so niente Non so se sta andando lui Ma noi avevamo già parlato La sera prima Era già finita là Quindi la cosa del ristorante Non è stata una cosa Io ovviamente adesso Non credo più a una parola Di quello che dici Anche se dici che sia verità Chiamalo in via voce Chiamalo in via voce La famosa lupo al lupo Eh vabbè Purtroppo è così Vabbè C'è da dire che comunque Social boom Quando è tornato dal tavolo Ha detto Per me è chiusa qui Comunque abbiamo scherzato Una cosa del genere Tutto a posto E rideva Quindi in effetti Sembrava la classica reazione De uno che è costretto A tacere Non lo so O quello Oppure era strano Perché lui è un po' Un pavido Quindi non so Oppure per fatta in favore Magari sa che situazione c'hai Dice magari Ti devo dare un aggravante in più Perché ha fatto qualcosa Magari dopo sei scusato Sicuramente Alcuni trappere che ci stanno In Italia Vabbè Se questo non ce ne fotte un cazzo Comunque lo conosco Io lo conosco Io lo conosco Io lo conosco Francesco Io lo conosco Francesco In realtà Per certe cose Non è una persona Di merda Anche se Una volta Ha provato anche ad infamare me Con informazioni errate Vabbè Non era totalmente colpa sua Però In questo caso Non è che voi facciate Tanto di meglio Comunque Se posso permettermi Di dare il mio inutile parere Ma io non stavo parlando Non stavo parlando Del suo lavoro In questo caso Ah allora ti chiedo scusa No 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 Io quello che fa Non ho mai detto Allora ti chiedo scusa Io quello che fa Non l'ho mai criticato L'ho criticato soltanto Nel momento in cui Ad esempio Dice delle cose non vere Oppure C'era stato Revenge porn Il fatto che avesse Spammato Un filmato Di un certo tipo Io Per quanto riguarda Riportare le notizie Di cose Chi ha detto nulla Anzi Ho spesso detto Che è utile Tu parli del personale Del personale E anche di cose Che ha fatto Delle quali si è pentito Infatti poi la rimosse O ha chiesto scuse Quando mette cose in mezzo Quando mette in mezzo Cose private Fregandosene Che magari può rovinare Il lavoro E vita altrui No no Se lui riporta le notizie E dissing eccetera E storie Che male fa Quella è il lavoro È il servizio Per carità Io su quello Non l'ho mai criticato Sì sì Vabbè altre cose Però vabbè Non è questa la sede Cioè io in questo caso Con tutto che non ho Una grande stima Di Francesco Per vari motivi L'ho difeso Perché ovviamente Era la vittima Per me E quella scena Ribadisco Mi ha fatto Veramente Anche schifo E mi ha ricordato Gli atti di bullismo Che ho visto nella mia vita Eh ma io ancora Voglio capire Perché siamo arrivati A quella scena Dice che non lo vuole Chi soccose loro Perché siamo arrivati Perché lui è venuto Da te a casa Non è che è sponato Cioè tu l'hai invitato A casa prima No ma ha chiamato lui Mi ha chiesto Mi ha detto Se poteva Ti ha chiamato lui Se poteva venire da te No chiedo Che ne so Comunque c'è Dave C'è Dave che dice Che dice Che voglio capire Volete sfamare Tanto non lo vuole dire Volete sfamare Sto Che cazzo ha scritto Volete sfadare Sto mito Che questo fa al cantante Ah Giusto Sfatiamo il mito Ah regà Ma cioè Ma io Ma che poi Sto accendo qualcosa An saletta Eh ma Hai capito Ma che siete Voi quattordicenni Vi devo dire cose A voi Della vita mia Cioè ma come state Che dice Sfatiamo sto mito Perché Vanno No ma era una battuta Comunque c'ha trent'anni Fanno allusioni ad altri No era una battuta No era una battuta Sì E comunque c'ha trent'anni Dave E non sta rovinato No no Era una battuta Ma beh io ti sto a parlare Io ti sto a parlare Del pubblico In generale Che mi Se chiedono Ma come fai i soldi Come fai quello Ma quello che cazzo ha Pensavo fosse la domanda Così No era una battuta Del nostro amico Eh non lo sapevo Dave scrive Perché Vabbè lo conosci Dave Revan Chi? Dave Revan No Vabbè Sì è pure musicista Comunque vabbè Non è questo il punto Vabbè io Direi Che possiamo pure chiudere Non so se voi Avete domande Pure Ercole Se vuoi Vabbè Non facciammi dare a luce e vino No Ercole Se tu vuoi dirci qualcosa Siamo qui ovviamente Anche perché abbiamo parlato di te Mi sembra giusto darti diritto di replica Poi chiudiamo con Elia Io ero qua Per difendermi da qualcosa Penso no Penso la mia l'ho detta Nel senso non Cioè in genere a me Non è mai fregato un cazzo Del parere degli altri Però Questo sai Visto che Visto che la cosa Era così esplicita Ho detto ma vediamo Che cazzo mi dicono Perciò io domande Non ne ho onestamente Ok Vabbè Sì sì Beh giustamente Lui è stato Io di domande Non ne ho Ce l'ha però Mai avute Mai ne avrò Bella quella Top canzone Un bel capolavoro Pezzali È il cartone Ah bello sì L'isola come si chiamava Piene del tesoro No perché ho visto Che tipo ci hai messo nei trailer Ho visto pure la storia Che mi hai fatto a Flamezone Quindi pensavo Vabbè quelle ferite dai No no però No però pensavo Che mi vuole a dire qualcosa No ma io Quando tocchi Più mi fai queste cose Più sono contenta Quando per far ridere Tocchi persone Che non ci sono più A questo mondo Che non sai come se ne sono andate Non sai che avevano La tua età Soprattutto Quindi Nel senso Questa cosa Tu la pagherai Molto cara Amico mio Probabile Non lo so Sì sì Ma cos'è una minaccia No Te lo sto dicendo Te lo sto dicendo A baci Può essere una minaccia Ma che vuol dire Pagare a cara però Questo fatto che ho detto Di non Che ti fa offrire Una cena al ristorante De pesce buono E gli fa pagare bene Il conto Esatto Gli fa pagare a cara Vabbè Vabbè comunque mi sembra Che aveva chiesto pure Eppure scusa prima Ercole No Scusa Però avevi detto Che avevi capito Che avevi esagerato Tantissimo Ma non è una cosa Che sapevo già Di partenza Cioè nel senso L'ho sempre detto Cioè tu l'hai detto Sapendo già prima Che la stavi a spara grande Ma tu perché volevi Una reazione Da parte sua Stropositata Che cosa volevi Certo Perché l'hai attaccato Perché l'hai attaccato Sulla cosa proprio Voleva che lo ritaggavo Su Instagram L'hai attaccato Sulla cosa Che Cioè tu nella tua testa Hai pensato Secondo me Qual è la cosa Che lo può Fancazzare De più Bam Anche perché Sennò sa che Non avrebbe mai ricevuto Una risposta Ma tant'è che Lui non ha mai ricevuto Una risposta da me Io infatti L'ho preso E l'ho bloccato Gli continuo a dire Chi vivrà A me Fino a ieri C'è la gente Che mi mandava Screen su Instagram Delle tue storie Degli insulti Che mi tiravi Delle clip di Youtube Che mi sono pisciato Dalle risate Mi fa troppo ridere Perché c'ho la voce Simile a Morgan Quando ride Mi fa troppo Da io Me lo dicono tutti Lo so Infatti non volevo dirtelo Perché è molto Quella è la cocaina Ragazzi No Vedi questo segreto Prendiamo le distanze Secondo me Ercole invece È straight È uno che non se droga È uno sportivo No no Se droga per me Vabbè ma sti cazzi Ma chi se ne fotta Ognuno fa quello che vuole Fai live tutto intrippato Vabbè si beverà Le sue birre Ognuno fa quello che vuole Quello sti cazzi Finché non leete a nessuno Per me Si può fare quello che vuole Invece Poi avete visto Come sono finite Quindi leete a qualcuno Quindi non di tanto Oddio ma io Ma io non penso Che sia per l'alcol E che Ercole Si sia trovato A fare quei cose Io sono sempre per il vero Non vi drogate Che poi fate la fine sua Vabbè questo può essere Un messaggio Pro-comozionale Importante Certo No alle droghe No alle droghe Sennò diventerete come lui Madonna No comunque I meme mi hanno divertito Ercole I meme mi hanno divertito 50 anni in Shaman Conchain Io lo porterò Ma pure Post di Instagram Quelli che riposta a lui Mi fanno ride Perché sono molto Alla Vin Diesel Sono belli Tra l'altro lo sai che Ercole in realtà Lo sai che in realtà Ercole Uccide il Cerbero Lo sai Che vuol dire Muore o no quindi Sì io lo so Ah no no Appunto dicevo Quindi Come ti fa sentire La sensazione Che non accadrà mai O forse il contrario Vabbè Forse il contrario No è scritto È scritto Giallù Non possiamo andare contro Un po' di umiltà Un po' di umiltà Però sicuramente I nostri nomi Sono sicuramente casuali Cioè nel senso No il mio nome Non è casuale Il mio nome nasce Come un insulto Però vabbè Al di là di questo No no ma i meme Quelli mi divertono Ma eh Cioè uno dei miei moderatori No sono divertenti Ma finché si rimane Su queste cose qua Io infatti Vi siete sentiti offensi Per caso No no ma che No no Siamo tagliati Siamo passati da ridere No no io Speravo in realtà Speravo in un dissing Perché Non so che voi sperate Queste cose Ma No sai che Che a me piace molto Confrontarmi con i Con i pagliacci Certo A me dal vivo A me dal vivo A me non su Twitch Però dal vivo No Io solo verbalmente No quello è Grimbaud Mi sa No mo là C'è Grimbaud Oh mi ce ne stanno un po' Che mo' Che vanno fare I pagliacci C'è sta la lotta Al capoclown Però il pagliaccio vero È quello che non sa Di esserlo Cioè Ercole Ah perché è incontrato Tutto un bigitano No no Io sono il primo Che lo dice ragazzi No ma finché si rimane Finché si rimane Ma sei contento Di essere un pagliaccio Per me l'umiltà È sempre stato Ma sei contento Di essere un pagliaccio Assolutamente sì Bravo Assolutamente sì Sai qual è la Sostanziale differenza Tra me e te E io faccio ridere Da vestito E tu da nudo Quella Ti giuro Qua dentro Siamo in sei persone Non ho visto L'accino di un serino A nessuno Ah no ma era Soltanto un modo di dire Eh ma ti giuro Che qua siamo in sei Calcola Ma questa era una battuta Tu fate già E spranga Assolutamente Eh beh pure su quella Su quella Che ha schimalissimo Assolutamente Lascia perdere Me vogliono Faffa porno Lascia perdere Umiltà sempre Anche su di quello Eh bravo A me me vogliono Faffa porno Quindi infatti Umiltà non dico nulla Ma sei te che l'hai detto Per primo Quindi ti dico Pure su quell'argomento Su quell'argomento Non puoi arrivare Va bene Tutti i miei amici Sono a bere Tranne me Tutti i miei amici Sono a bevuti E pure io Top cover Va bene ragazzi Grazie mille Grazie mille Grazie mille Sicuramente candidata Nella categoria Top live cringe Sì sì Top trash Regà ci siamo Noi e Barbara D'Urso Esatto Ma questo fa capire pure Che noi non è che Cavalchiamo l'hype Cioè sta cosa Quanto tempo fa successo Sarà passato più di mese Infatti non è che Cavalcano l'hype Che sopporto l'hype Io ci tenevo A portare queste due persone Da un anno a questa parte Sono l'hype italiano Io Non riesco più a sopportarla Non riesco più a sopportarla Datemi una mano Fammi vedere un po' Che sta ingobbito Fammi vedere un po' Perché c'è sto peso Sta un po' ingobbito Dal peso Fammi vedere un po' Lo sai che pure Eh sì perché Pure entrando su TikTok Sono pure le chain Stai su TikTok Devi fare TikTok Mantengo il peso Di avere l'hype italiano Ma lo sanno bene tutti ragazzi Il canto Chi tocco tocco Gli faccio fare sordi Dai dai Vabbè vabbè Grazie ragazzi Vabbè Io non lo so Se qualcosa Se sia uscito fuori Da sta live In realtà Per quanto mi ricorda Sì Mi sono chiarito Delle cose Pure io Pure io Devo dire che Ho trovato risposta Ad alcune cose Tranne quella principale E anche Alcune non risposte Sono state delle risposte Sì 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 Quindi va bene così Assolutamente Grazie a tutti Noi ci vediamo questa sera All'eventura Ciao ragazzi Top live stasera Top live stasera Se ve la perdete Ve ne pentirete Ciao Ercole Buona serata Ciao Ciao Sigla 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 Non mi sento molto bene Non mi taglierò Non mi taglierò le vene Mi serve una trasmissione Da vedere In punto di morte Sono a casa Scio Troppi goblin in questo mondo Non sarò un clocheur Né tanto me non deve Perché ogni giorno guardo C'è il vero, papapapodcast C'è il vero, papapapodcast Marranichi li scedebbe Dei murlarana, rana, rana C'è il vero, papapapodcast Marranichi li scedebbe